Una grande vittoria soprattutto perché il Napoli non ha giocato una grande partita e l'avversario era molto forte. Una partita difficile, molto lavoro, carattere e alla fine la squadra che approfitta l'opportunità di fare gol, vinceva la partita e adesso José ha fatto un gran gol di testa e tre punti importanti per noi. Una grande partita per sperare ancora nel secondo posto? Sì, mancano ancora tanto punti, ma sappiamo che tre punti dietro, ma la Roma con una partita per giocare contro il Parma dobbiamo aspettare e pensare a vincere la partita fuori di casa contro le squadre più piccole e dobbiamo migliorare queste partite. Sì, non sempre giocare preciso con la palla è difficile con tanta partita. L'importante penso da me è il lavoro della squadra, 90 minuti di lavoro, di carattere e cuore e alla fine vincere a casa è più importante contro una squadra buona come è la Roma. E sappiamo che con la palla oggi non è un buon giorno, ma è importante vincere. Siete pronti a questo marzo così importante con tanti impegni, uno dietro l'altro, l'Europa, il campionato? Sì, questo è buono perché tre competizioni, giovedì una partita dura contro una squadra di Champions e sappiamo che dobbiamo andare a fare gol su due partite e portare un buon risultato a casa. Avete vinto, ci sono tre punti di distanza, come ricordavi anche tu, però la Roma ancora ha una gara da recuperare, ma voi ci credete a questo secondo posto? Dobbiamo pensare alla partita di noi, soprattutto fuori di casa, è difficile la prossima a Torino e pensare a noi, non alla Roma.